Oltre all'udienza Corte Federale di Appello della FIGC, che lunedì dovrà riformulare sanzione il caso Plus Valenze, c'è un altro processo sportivo per Juventus Procura Federcalcio, infatti, ha deferito il club bianconero cosiddetta manovra stipendi. La Juve è accusata di violazione dell'articolo 4.1, cioè di lealtà sportiva. Il processo è previsto per giugno. La Juventus è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva per atti e comportamenti dei suoi dirigenti. E infatti il rinvio fu fatto per André Agnelli Pavel Neved Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna Paolo Morganti Stefano Braghin tutti accusati aver violato l'articolo 4.1, del codice di giustizia sportiva e relativi a quattro diversi piloni indagini. La manovra salari stagione 201.920, quella per la stagione successiva, agenti e rapporti di partnership con altri club.